Una spiacevole disavventura per la nostra, dico nostra, perché ormai insomma ci è abbastanza familiare i testimoni di Geova dell'anno scorso, potete trovare sul web anche le immagini del battesimo dei testimoni di Geova di Serena Williams, è accaduto questo spiacevole incidente di essere rifiutata da un ristorante insieme ai suoi cinque figli, di cui tra l'altro appunto impariamo, non lo sapevo che uno si chiamasse Olimpia proprio, e come dice, leggiamo proprio nell'articolo, arriva direttamente dal profilo ex Twitter di Serena Williams, la notizia secondo cui l'ex tenista statunitense di fama mondiale è stato negato un posto a tavola, è successo ieri a Parigi dove la Williams si trovava per seguire le Olimpiadi insieme alla famiglia, compresa la fila di Serena e l'Olimpia, dove aver preso parte lo scorso 26 luglio alla cerimonia di apertura dei pagani, aggiungo io, giochi olimpici secondo quello che ci ha ricordato la Torre di Guardia, un suo articolo in cui parla appunto dei giochi olimpici insieme a Raffaele Nadal, Carl Lewis e la delegazione di tutti gli atleti partecipanti, il locale in questione si trova sul tetto del lussuoso dei Peninsula, Hotel 5 Stelle, in Avenue Kleber, all'incirca metà strada tra l'arco di trionfo, il Trocadero. Il locale ha subito risposto, sempre via social, spiegando che i posti che l'ex tenista aveva visto vuoti in realtà erano prenotati, accetti le nostre scuse e via dicendo, insomma, quindi ricordiamo così, insomma, perché un po' diciamo la verità, ci piacciono anche un po' questi gossip, ma soprattutto ci premo un po' ricordare che evidentemente insomma abbiamo testimoni di giova di serie A e di serie B.